Il 26 da Cercle d'Ur Il 26 da Cercle d'Ur Sogne John e Sogne Paul Frars, Martyrs Quei due sogni frars survivevano scopo uns Christifici d'Aivels in la corte di grande temperatura Konstantin Paul, segretario e Ionsco Maiordom della Princesa Constanzia Ossa smadaceva rebelsa attacar e ruinar tiaras di imperi romani Per quai, termeta Konstantin s'il pli capavel comandant Gallican con sia giudata incontra quai prigulus inimici Gallican che fuvi impagàun accepta quai camondenton sot les condizions tirina victoria davantà perfecta da Roma e che con la seconda la feia Constanzia perdona Gallican fuvi vieus e aveva due feies Constanzia che aveva facci l'but da castedat dat tier tenton con la condizion che Gallican prendi i due survienci John e Paul in sia armata e surlaccia i due figli ad ella in tocan cal tuarne con sia sogn cia veta e con oratium po Constanzia converti qualas due sorras pagaunas tier Christus tenton vei in Gallican con sia armata cinclausendils rebels e in tutta anguoscia e senza speranza se volve elle con insacrifici tra il faul dieu Mars i due sogni frars observano quae e clomano mette giù in vut al verde ud il cielo dalla tiara ed am permette da davantar cristians luven stia ver la victoria di man che è il momento che il capitano am permette da fare quae compara in giùven con una cruz di dies e di prend la spada e suonda mai Gallicanes sia paucallaut suondam quae giùven e vesan in antera armada con spadas tracias venient e negit mesent quae se mette in genolles e roga per la veta con l'intensiun da davantar cristians rimna Gallican sia giudata e torna victorius amain a Roma fec consolaus ai Gallican staus da sever che si es duas feies erano se cristianes per se musar ingratiai velsè diu se l'ai el batallà a incontra sia velja davant all'u perfecta Roma e si noces desiste l'era toront si ufezi datel la libertà a ciù melis clavs e della fin vendel totesias rihezis e serenda a ostia tiberina leu sen taupe el con sogn hilari ed els begegnen zemen baselges ed in spital il venti e ciunde cercle dur ving Gallican martirisaus entrasi l'emperatur e tiran julian che veva e neil sia rauba er il stu soins frars dione paul a incontra arrivai a Roma e sorviu leu a la sognia princesa con stanza assi dici che lei vivida suente la morte di il sfez di di Konstantin ai su neves iuli andavantaus imperatur in un senza cardientia e gron perseguitata di christifidai spersias tiranias pretendeva el tot la rauba di christians con la fenta che christus hagi voliu che se su andontars vivien in pauperat e bandunen l'ur faig se vent che Gion e paul e paul se di un gron di srihetzias nev da Konstantia comandè ell a su capitani Terencian da dritza rora als du sfrars calzajan aug diesdiis pèda da se resolver da durar il s dieus di imperi ni calzajan della morte il s tu soins laien sever caldagi bu piarra il s diesdiis el cedjans am tiai da sponderlu ursang pilzulet per Dio el sapainam pil martiri compartor ora totta l'urauba als paupers con urar dia noc e se recomandar a Dio so entre dies dies en con tercera arriva Terencian congiuldada e presentan als du sfrars in a statua da Júpiter quel camond di l'emperatur dat ad urar quel ni da venisca va zai immediat il soins confesur se metten en genoies e grazie a Dio per tot il bien enton mesanoci venien ells cavacai e lur acci na casa per tema che se vesi lavarsi una revolta dentro il pieval lai Terencian discusamai incertar il corpso in l'urcasa mort las miracles davantatas leu ai quai martiri che fu vestavus il 26 da cercle 2 di Ion 363 veniust a lei isch Terencian rogati al zoins per perdun e se converte cuncie familia tir la kardiencia de Kristus per ton che Julian Mire i non pli tard te sperade main cuncie